buongiorno a tutti eccoci qua il 10 di ottobre 2019 il giorno del nostro debutto internazionale oggi soglieremo ad osaka finalmente al road rush che è momentanamente molto presi da questa cosa però è sopraggiunto un problemino che da post di facebook si è rivelato una catastrofe naturale agibis il super tifone arriverà a tokyo proprio il giorno in cui dovremo suonare nella città del sollevare come vedete siamo fissi non ne mangi quello ma noi lo risolveremo anche solo per masati e patate questi ragazzi Dan ha provato a riscaldare al mio fronte un biscotto ma il si è sgranellato dopo questa Davide se ne va Davide oggi è incansato perché ha dormito poco risponde soltanto a bestia Davide dove stai? inoltre per colpa di agibis dovremo anche lasciare un giorno anche probabilmente questo ostello che ci costerà tanti euro a testa perché noi abbiamo il lussuosissimo ostello thangkai a 6 stelle ma non è il Grazie a tutti, grazie. Noi, 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 noi. Noi, noi, noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 no Girelliamo e cerchiamo 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 Grazie, grazie Girelliamo e cerchiamo Grazie 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 Grazie